La Regione Campania accella l'operazione salvataggio per il villaggio preistorico a Nola. Ad Angri, mentre i commercianti protestano per la riapertura dell'area parcheggio delle ex MCM, le istituzioni restano in silenzio. A Nola continuano gli incontri tra l'amministrazione comunale e le associazioni sulla questione del piano traffico, incontri che non producono niente. Sono in arrivo i decreti di finanziamento da 1 miliardo e 850 milioni per i grandi progetti messi a disposizione della Regione Campania. A Nola, Palazzo di Città, un nuovo pensionamento per un altro dirigente interessato è il comandante della Polizia Municipale che il prossimo 1 agosto lascerà l'incarico. Questo è il nostro sommario, adesso una brevissima pausa. Benvenuti nella nostra informazione. Apriamo il telegiornale parlando della operazione messa in sicurezza del villaggio preistorico a Nola. La Regione Campania attua un'accelerazione sul programma di interventi per salvaguardare l'importante sito archeologico dell'area Nolana. Gianni Amodeo. Agenda aperta sulla messa in sicurezza e sulla valorizzazione del villaggio preistorico di Croce del Papa nell'incontro svoltosi a Palazzo Santa Lucia. Focalizzate le problematiche da affrontare e risolvere sul piano tecnico e su quello finanziario per la salvaguardia dell'importante sito archeologico Nolano che fa parte del patrimonio della Regione Campania. Definito il quadro degli interventi da mettere in atto accelerandone i tempi di realizzazione. Interventi di ricognizione geologica e archeologica d'intesa con la sovrintendenza di Palazzo Reale per passare al programma di opere con cui arginare i flussi della falda acquifera la cui capillarità tiene sotto grave rischio la conservazione del sito e dell'unicità di testimonianza preistorica che rappresenta. E sul punto unanime concorde la volontà degli assessori Cosenza, Russo e Trombetti per la valorizzazione del complesso archeologico Nolano nell'ambito della promozione al sistema della gestione del vasto patrimonio dei beni culturali e monumentali dell'area. Carabinieri del nucleo investigativo di Napoli nel corso di un blitz in Italia e l'estero hanno arrestato 54 persone ritenute affiliate ai clan camorristici degli abbinanti e delle teste matte. Gli arrestati sono destinatari di un'ordinanza di custodia cautelare in carcere emessa per associazione finalizzata al traffico di stupefacenti aggravata da finalità mafiose. I ad Angri continua la protesta del comitato spontaneo che tiene ancora aperta la petizione per la riapertura del parcheggio dell'area della ex MCM. Oltre mille firme non sono bastate a far smuovere dall'immobilismo le istituzioni cittadine. Commercianti in protesta è raccolta firma che continua. Ormai l'iniziativa sta coinvolgendo numerosi esercenti e cittadini andando al di là delle aspettative dei promotori del comitato spontaneo, oggi costituitosi ufficialmente dunque realtà rappresentativa di cittadini delusi e abbandonati dalle istituzioni. Un gazebo in strada per mantenere il contatto con la gente, per raccogliere la solidarietà e le adesioni, per una protesta sensata e dettata da esigenze pratiche di sosta che dopo la chiusura dell'area nel maggio dello scorso anno ha generato un'emergenza parcheggio senza pari, generando problemi di sopravvivenza per le numerose attività del centro città che perdono clienti per l'impossibilità di sostare. Da Palazzo di Città si definisce impossibile riaprire l'area perché attuare cambi di destinazione d'uso non è possibile, ma fino ad un anno fa l'area della ex MCM attraverso un comodato d'uso è stata affidata prima all'ACI, poi alla Terzo Millennio ed infine all'Angri Ecoservizi, società private che hanno svolto attività di lucro su un suolo gestito dal Comune, con addetti alla sosta che negli anni hanno elevato contravvenzioni per la mancata esposizione di grattini o di sosta oltre orario. Controsenzi e paradossi angresi che alimentano i dubbi in commercianti e cittadini che vanno avanti con la loro lotta, una protesta che ha generato imbarazzo per le associazioni di categorie locali che hanno dovuto prendere atto dell'aggregazione spontanea generata da esigenze pratiche alle quali non si riesce a dare ancora una risposta. Un esempio di cittadinanza attiva al di là delle bandiere e delle appartenenze, necessità popolari con le quali le istituzioni dovranno prima o poi confrontarsi, risposte al momento ancora attese dai promotori dell'iniziativa che forti del successo ottenuto preparano nuove iniziative per ottenere l'apertura dell'area. Ma il problema parcheggi presenta ancora altre sacche di resistenza. La ZTL, istituita due anni fa, continua ad essere contestata dagli abitanti di via Mendola e delle strade adiacenti Piazzadoria. Ampia l'adesione anche tra i commercianti della zona che hanno deciso di aggregarsi al comitato, allargando il fronte degli scontenti che chiedono ormai da tempo la rivisitazione dei provvedimenti adottati e considerati impopolari. Secondo il rapporto dell'Istat sulla superficie dei comuni, delle province e delle regioni italiane, la Campania è la regione con la più alta densità abitativa italiana, con 422 abitanti per chilometro quadrato, mentre Napoli presenta il maggior valore superiore ai 1.000 abitanti per chilometro quadrato, raggiungendo quota 2.591. Il comune di Atrani, costiera amalfitana in provincia di Salerno e tra i comuni con la minore estensione e con superficie di meno di un chilometro quadrato. La loro attuazione comporterà investimenti per 1 miliardo e 850 milioni, sono i grandi progetti su cui puntano le politiche della regione di Campania, via libera ai tegreti di ammissione e finanziamenti per 7 grandi progetti. Sono definiti i grandi progetti per la valenza di profilo strutturale con cui sono impostati nella elaborazione e nelle finalità organicamente funzionali ai territori e alla loro messa in valore socioambientale ed economico-produttiva, evitando dispersione a pioggia di denaro pubblico. Un percorso che per la regione Campania è già segnato da 7 grandi progetti, la cui attuazione comporterà investimenti per 1 miliardo e 300 milioni di euro, progetti già messi a finanziamento con gli specifici decreti e che si rapportano tra gli altri alla messa in sicurezza del fiume Sarno, alla statale 268 del Vesuvio, al ripascimento del golfo di Salerno e alla metropolitana Metro Campania Nord-Est Piscinola Capodichino. Sulla scia dei citati progetti sono in corsia altri progetti per i quali tra qualche giorno saranno firmati i decreti di ammissione a finanziamento. La loro attuazione comporterà investimenti per 550 milioni di euro. Sono i progetti che interessano il centro storico di Napoli, patrimonio dell'UNESCO, il polo fieristico regionale, la depurazione del litorale Domizio, la depurazione delle aree interne di Avellino, Benevento e Caserta, nonché la depurazione dei laghi Flequei e la banda Larga. Con i decreti di ammissione a finanziamento, gli enti beneficiari possono indire le gare per le opere da realizzare e i tempi di progettazione e di avvio delle gare d'appalto sono ristretti entro l'arco dell'anno in corso. Sono in fase poi di approfondimento per le modalità attuative i grandi progetti per la depurazione dei reggi lagni e per la depurazione in provincia di Salerno. Valgono insieme 320 milioni di euro. Ad Avellino si è svolta in prefettura una riunione presieduta dal prefetto Umberto Guidato, presentato il piano provinciale per la ricerca delle persone scomparse, già approvato con decreto prefettizio dello scorso 7 febbraio. All'incontro erano presenti i vertici delle forze dell'ordine, dei rappresentanti della provincia del Comune di Avellino, dei vigili del fuoco, della Polizia Stradale, della Centrale Operativa del 118 e del Corpo Nazionale Soccorso Alpino e Speleologico della Campania e dell'Associazione Penelope Campania. E continua ad essere al centro degli interessi, annola il piano traffico, incontri tra l'amministrazione e le associazioni che non hanno prodotto risultati, perdite di tempo che distraggono dai veri problemi della città. Piano traffico ancora al centro degli interessi di cittadini e amministratori. Incontri, riunioni, cortei, manifestazioni stanno ingessando la città intorno alla funzionalità di un dispositivo che sta ecclissando le altre problematiche che interessano la comunità nolara, facendola diventare l'unico problema esistente a nola e per il quale da mesi si continua una contrapposizione che è apparsa povera di contenuti validi, aprendosi a strumentalizzazioni ed impantanando la discussione su posizioni rigide che frenano proposte e non risolvono il problema. Nell'ennesimo incontro con le associazioni, il sindaco Biancardi ha ribadito che il piano traffico in vigore dall'agosto scorso non verrà revocato. Dunque l'amministrazione conferma le sue scelte e guarda avanti senza condizionamenti. Di contro l'associazione HACAN che annuncia nuove iniziative di protesta, continuando la petizione popolare che ha già superato le 2000 firme. La rivolta contro il dispositivo viario continua, ma non si conosce ancora l'esito dell'annunciato ricorso al TAR che l'ACAN avrebbe prodotto nei mesi scorsi. Basterebbe attendere la pronuncia dei giudici amministrativi per determinare la sospensione del provvedimento o la sua legittima esecuzione da parte dell'ente comunale. Attraverso una nota stampa l'ACAN si è limitata a criticare quanto proposto dalle altre realtà associative, senza però segnalare un'eventuale soluzione proposta. In una settimana condizionata da eventi elettorali il piano traffico resta ancora tra le priorità delle agende di amministratori e associazioni, con una disponibilità all'ascolto della maggioranza cittadina forse eccessiva rispetto al problema, più virtuale che reale, tralasciando problematiche importanti che affliggono nella quotidianità i cittadini nolani. A Bosco Reale è stato approvato il progetto per la realizzazione di orti sociali, un'iniziativa progettuale che si propone di recuperare e diffondere le conoscenze e le tecniche di naturale coltivazione, promuovendo un sano impegno del tempo libero e consentendo l'integrazione dei soggetti appartenenti alle fasce più deboli come anziani e disabili. L'iniziativa è rivolta ai cittadini maggiorenni residenti a Bosco Reale che non dispongano o qualsiasi titolo di altro terreno coltivabile. La disponibilità degli orti sarà resa pubblica con apposito avviso e la durata dell'assegnazione sarà per due anni con possibilità di rinnovo ed avviene a titolo gratuito nella fase iniziale di sperimentazione del progetto. Per l'assegnazione delle porzioni di terreno in caso di domande superiori alla disponibilità sarà stilata una graduatoria dando priorità ai portatori di handicap, ai pensionati con pensione sociale minima ed altri pensionati e ai disoccupati. E scatterà dal prossimo 1 agosto il pensionamento di un altro dirigente dell'amministrazione comunale della città bruniana, interessato e responsabile della polizia locale Carmine Lanzaro. L'istruttoria con relativa proposta e determina si deve al dirigente protempore del settore affari del personale e segretario generale dell'ente di Piazza Duomo il dottor Gaetano Montazzoli e prevede la collocazione a riposo per limiti di edà per il comandante della polizia locale Carmine Lanzaro. Il provvedimento di cessazione dal servizio prestato per oltre 40 anni sarà operativo dal 1 agosto prossimo. Con la messa in quiescenza del responsabile della struttura di via Fonseca si ridimensiona ulteriormente la rosa dei dirigenti dell'amministrazione comunale della città bruniana. Nel decorso biennio sono già andati in pensione l'ingegnere Giuseppe De Falco responsabile dei lavori pubblici, Daniele Cutolo responsabile dell'ufficio di ragioneria, l'architetto Giovanni De Sena responsabile dell'urbanistica e se De Falco e Cutolo facevano parte dell'organico del personale di servizio dell'amministrazione De Sena ha esplicato il proprio incarico col regolare rapporto di contratto che però non è stato rinnovato alla scadenza di settembre scorso. Attualmente oltre Lanzaro dirigono i rispettivi settori Felice Maggio per la tutela dell'ambiente, Gaetano Oliva per l'urbanistica e i lavori pubblici e Giacomo Stefanile per i beni culturali, mentre il dottor Paolino Santaniello assolve la funzione di segretario aggiunto. Il dottor Maggio e l'ingegnere Oliva sono dirigenti esterni, Stefanile e Santaniello interni. In questo quadro resta ancora scoperta la dirigenza dell'ufficio di ragioneria, nonostante l'indizione del concorso, il cui bando risulterebbe però improprio, dirigenza le cui funzioni provvisoriamente sono esercitate dal segretario generale Montazzoli. Al di là della situazione attuale si vengono delineando le condizioni per il riordino strutturale delle dirigenze dell'amministrazione, riordino strutturale da calibrare sul ricambio delle competenze e su professionalità giovanili per dare slancio ed efficienza alla macchina burocratica del Palazzo di Città. Giovedì prossimo presso la Sala Consiglio si svolgerà l'inaugurazione di Meeting, il primo Meeting immobiliare della Camera di Commercio di Napoli realizzato dalla Borsa Immobiliare in collaborazione con le associazioni di categoria e le federazioni degli agenti immobiliari e gli ordini professionali. All'incontro parteciperanno tra gli altri il Presidente della Camera di Commercio di Napoli Maurizio Maddaloni, Clemente Maria del Gaudio, Presidente Borsa Immobiliare di Napoli, Luigi Matera, segretario regionale dell'Adi Consum e Rodolfo Girardi, Presidente dell'ACEN. La due giorni dedicata a privati ed operatori del settore sarà incentrata sulla compravendita e la locazione degli immobili. I consumatori avranno la possibilità di trovare risposte, chiarimenti, consigli utili ed opportunità per trovare casa e o proteggere i propri interessi economici e giuridici. Bene, con questa notizia è tutto, il telegiornale termina qui. A tutti voi un grazie per averci seguito, arrivederci. Raffinati dettagli che arredano il tuo mondo. Tufano Arredamenti. Qualità, ricercatezza, stile, design per arredare i tuoi spazi. Dal classico al moderno, delle migliori case italiane. Da Tufano Arredamenti puoi visitare l'esclusivo showroom dedicato alle cucine Berloni. Da Tufano, qualità dei servizi, personale qualificato, consulenza personalizzata, trasporto e montaggio a regola d'arte, assistenza post vendita. Fanno la differenza. Tufano Arredamenti. Piazzale Ferrovia. Saviano. www.tufanoarredamenti.it. Per ogni arredamento completo un televisore LCD 32 pollici in omaggio.